Buongiorno a tutti, buone mercoledì mattina, benvenuti alla Rassegna Stampe, al primo appuntamento con l'informazione di Udinews TV, come sempre insieme con voi per iniziare bene la giornata, leggere i giornali, dare uno sguardo alle notizie più importanti, ma anche qualche aggiornamento sulle notizie utili per affrontare al meglio la quotidianità, quindi il meteo, il traffico, i collegamenti con la Polizia Municipale e anche i nostri collegamenti in esterna, quest'oggi c'è per noi Angela Accaino e vedremo dove ci porterà nella seconda parte del nostro appuntamento. Cominciamo però con il meteo insieme all'Eonora Nocent. Per ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di mercoledì 27 marzo. Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata sereno o poco nuvoloso. Sulla costa soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute nelle ore notturne e probabile ancora vento sostenuto da nord o nord-est anche in quota, possibili locali gelate notturne anche in pianura. Le temperature. Sulla costa 4-8 gradi di minima, 13-16 gradi di massima. In pianura 0-4 gradi di minima, 15-17 gradi di massima. A mille metri 2 gradi e a 2000 metri meno 5 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. E allora guardiamo anche qualche immagine che ci arriva dalle nostre webcam dislocate sul nostro territorio. Cominciamo con Trieste, con la webcam collocata sul Monte Grisa. Qui invece siamo sullo Zoncolan. La giornata comincia bene, come ci ha raccontato la nostra Eleonora. Ci sarà un pochino di Bora a Trieste e vento anche in quota. Anche ieri in montagna c'è stato parecchio vento, però sarà una giornata serena. E ormai a quest'ora, come lo vedete, il cielo è chiaro e la luce è evidente. Quindi è già giorno, nonostante appunto sia mattina è presto. Qui siamo sullo Zoncolan e a Trieste. Guardiamo anche la situazione in autostrada, ieri dei rallentamenti nel pomeriggio per il consueto traffico dovuto al rientro dei vettori commerciali dall'est Europa. Come ogni martedì in questo momento invece l'autostrada è scorrevole, non ci sono rallentamenti, non ci sono incidenti su tutto il tratto, sia sull'A4 che sulle varie diramazioni, A34 e A23. Tutto a posto per il momento, quindi se dovete mettervi in viaggio. Non ci sono problemi, anche l'altezza del Veneto. Andiamo a dare un'occhiata se c'è qualche problema nel tratto Veneto di autovie, ma mi sembra che anche verso Venezia Mestre non ci siano problemi. Quindi al momento tutto scorrevole. Diamo uno sguardo adesso alle prime pagine di quest'oggi. C'è un po' di diversificazione, le prime pagine non hanno tutte la stessa notizia in apertura. Iniziamo con il Corriere della Sera che parla della cittadinanza concessa dal Ministro dell'Interno Salvini ai due piccoli eroi, ai due bambini che hanno avuto la prontezza di chiamare i soccorsi durante il sequestro dell'autobus dove erano imbarcati come passeggeri. Il bus dirottato è stato salvato proprio da loro. Il leader leghista sul ragazzo egiziano è come un figlio. La risposta del piccolino non me l'aspettavo. Cittadinanza ai piccoli eroi. Salvini raccoglie l'appello per Rami e Adam e Di Maio dice l'ho convinto io. Il suo atto di coraggio dice Salvini supera le leggi e arriva allora il sì alla cittadinanza. L'opera di convincimento la rivendica Gigi Di Maio. Poi vediamo, la foto di centropagina è dedicata alla volontaria in Kenya, Silvia Romano, la ragazza di 23 anni che è stata rapita il 20 di novembre. Roma dice al Kenya, lasciateci indagare, tre giorni fa è arrivata l'ultima richiesta di inviare in Kenya un pool di investigatori, ancora una volta solo il silenzio. Si inasprisce lo scontro tra Italia e il paese africano sulla ricerca della ragazza che ormai è scomparsa quattro mesi fa. Vediamo anche le altre notizie della prima del Corriere. Introdotto l'equo compenso per i contenuti sul web. Ieri è stata approvata dall'Unione Europea la riforma del copyright, più tutele per editori e artisti. Via Libera, la nuova direttiva si va verso una maggiore protezione del copyright in un settore il cui valore supera i 900 miliardi fatturato. Un sì arrivato nonostante il massiccio lobbying contrario delle multinazionali americane. Poi ancora i furbetti del no, si parla della maggioranza che sostiene il governo italiano che si è espressa proprio a favore del no sulla direttiva europea del copyright. Quindi ieri ha votato in senso contrario al Parlamento europeo. E poi torniamo in taglio più alto. Vicende milanesi ma non solo. Vicende che riguardano la storia del calcio. È giusto dimolire San Siro? Si chiede il Corriere della Sera. La disfida sullo stadio, la città e i simboli di un calcio ma anche di un periodo storico. A proposito di calcio, ieri l'Italia ha travolto il Liechtenstein, 6-0 il risultato finale, doppietta di Fabio Quagliarella su rigore. Comunque la partita è finita decisamente bene per gli azzurri. Invece vediamo anche l'editoriale di Angelo Panebianco. Politica in tribunale, giustizia e valori intoccabili. Quando sulla graticola ci finiscono gli antigarantisti, coloro che hanno costruito le proprie fortune dedicandosi al linciaggio morale degli avversari, si possono adottare l'uno o l'altro dei due atteggiamenti. Si può dire benvistacchi, di spada ferisce, eccetera, eccetera, o passare ad altro. Si può sforzarsi di parlare a quelli che hanno seguito, i linciatori morali, come se fossero il pifferaio magico, l'idea di Angelo Panebianco. Andiamo a vedere anche le altre prime pagine. Passiamo alla Repubblica che parla di bolletta elettorale. Il presidente dell'autority, nominato da Di Maio, riduce fortemente le tariffe da aprile. Effetto dell'inverno mite e del ribasso sul mercato energetico. Un aiuto alle famiglie. Qual è la notizia? Che le bollette di luce e gas diminuiranno dal primo di aprile. L'autorità per l'energia, infatti, ha aggiornato le tariffe per i consumatori sul mercato di maggior tutela. Per il prossimo trimestre, chi non è pensato al mercato libero pagherà la fornitura di elettricità 8,5% in meno, mentre per il gas il calo sarà del 9,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Poi vediamo ancora il centropagina, il vertice a Parigi con il presidente cinese Merkel-Macron, grande patto con Xi e schiaffo all'Italia. Qui vediamo all'Opera di Parigi la first lady, la moglie di Macron e la first lady cinese in questo incontro sul palco. Metro e rifiuti, la capitale del nostro scontento. Il racconto romano è di Sergio Rizzo, sempre in prima pagina sulla Repubblica. Invece, vediamo in taglio più basso, si parla ancora di Battisti, la polemica. Chi lo difese? I protettori di Battisti si fa presto a dire sinistra, firma Francesco Merlo. La sinistra chi? Lavorando di denigrazione e fake news, le più arruffate risagliole tribù giornalistiche della destra italiana, attribuiscono alla sinistra una complicità ideologica e un sostegno concreto alla lunghissima latitanza di Cesare Battisti. Invece il vero e il contrario. La fuga dell'assassino Battisti è sempre stata raccontata e condannata come un oltraggio al diritto e alla verità, proprio dalla sinistra. Invece, in taglio più basso a destra, scacco a Google e compagnia. Passa la legge sul copyright, si parla anche qui del voto europeo. Approvate le nuove norme che consentiranno ai creatori di notizie di negoziare un equo compenso con i giganti del web. Questa, la prima della Repubblica. E adesso andiamo a vedere invece il giornale che apre proprio con le parole di Battisti, confessioni di un terrorista, i verbali shock. Non so perché ho ucciso negozianti da punire, ma non sono feroce. I miei difensori sono ideologizzati. Leggeri verbali resi da Battisti e magistrati che lo hanno interrogato fa rabbia. Nesce il ritratto di un criminale che si fa scudo con una guerra giusta, ma che mostra un misto di disprezzo e strafottenza. La prima vittima fu il maresciallo Santoro. E poi negozianti, Sabadine e Torreggiani, poi infine Campagna. 50 anni di bugie sulla superiorità morale degli intellettuali rossi, compagni che sbagliano, dice il giornale. Poi Rami Salvini cambia idea, subito la cittadinanza. Il padre del calciatore nero invece non vuole migranti irregolari. Il babbo del neoazzurro Ken zittisce i buonisti, e il suo papà appunto è contrario all'immigrazione irregolare. Poi ancora vediamo in centro pagina, sempre sul giornale TV, per la prima volta Canale 5 supera il Rai 1. Flop giallo-verde a Viale Mazzini, perché Canale 5 ha raggiunto il 17% di share, superando Rai 1, che invece ne aveva solamente 16. Poi Bergoglio tenta il miracolo a ressuscitare la Roma grillina. Il papa in Campidoglio è la prima volta, si legge in questo articolo del giornale. Poi finisce l'era dei pirati web. Tajani spiega la norma sul diritto d'autore. Tajani esulta per il sì del Parlamento e dice Davide ha sconfitto Golia, i big della rete, così finirà il Far West digitale. È giusto pagare quel che si usa anche l'informazione. Andiamo a vedere anche la prima di Libero, di Battista darà il colpo di grazia, qui invece la politica è sempre in primo piano. Di Maio sarà sostituito da un boia, si legge. Addirittura questa è la definizione di Libero. Poi i grillini invocano il suo ritorno come fosse il Messia, ma da quando Dibba è tornato non è azoccata una, può solo affossare il Movimento 5 Stelle, non certo salvarlo. Poi a centropagina si parla del ministro Toninelli, re degli incapaci, lascia entrare i clandestini, frena Salvini e inventa aeroporti inesistenti. E poi il papà di Ken e Leghista, la Juve mi deve due trattori, il genitore del bombero azzurro, si confessa. Poi si torna a parlare di Battisti che sbugiarda i suoi protettori, lui si pente, gli altri no. E poi ancora l'europeista Zingaretti nuoce al suo PD, mette l'Unione Europea nel simbolo, così la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere invece le notizie economiche sul Sole 24 Ore, lasciamo un momento la politica. Con il DEF, la crescita ferma a più 0,1% e deficit verso 2,4%. Questi i conti pubblici, il Governo pronto a ridurre le previsioni per il PIL 2019, formulata nel dicembre scorso. Qualche decimale in più potrà arrivare dal pacchetto crescita. Il deficit tendenziale torna al 2,4%, oggetto a dicembre del duro confronto con l'Unione Europea. prendono forma i numeri chiavi del quadro macroeconomico e della finanza pubblica 2019 del prossimo DEF. La crescita di quest'anno si ferma allo 0,1% contro l'uno programmato solo qualche mese fa, ovvero a dicembre. Al pacchetto crescita in fase di costruzione sarebbe affidato il compito di spingerla di almeno un decimale aggiuntivo, rivitalizzando un po' l'economia del secondo semestre. Nel primo trimestre torno di moda i mutui a tasso variabile, scelte di portafoglio. Rialzano la testa, i numeri indicano che dopo aver toccato il fondo le richieste di mutui a rata indicizzata sono tornate a crescere. Poi anche il web pagherà i diritti d'autore. Appunto questa nuova norma approvata all'Unione Europea cambierà di molto lo scenario. Sì dell'Europarlamento, la direttiva sul copyright, Movimento 5 Stelle e Lega votano contro, hanno votato con patti contro le nuove norme, frutto del compromesso raggiunto con il Consiglio a febbraio. Invece favorevoli Forza Italia e in gran parte il PD. Le nuove regole affermano il principio che i grandi aggregatori di notizie, profilatori di utenti, ognuno con centinaia di milioni di utenti, quando ospiteranno contenuti protetti da diritto d'autore, dovranno rintracciare il titolare e stringere con lui accordi dinamici nel tempo. Poi invece un vertice anche a Parigi con la Cina, l'Europa chiede al paese di Xi Jinping reciprocità negli scambi. Questi gli accordi economici in miliardi di euro, lo vedete, 40 miliardi e due e mezzo. Nex in borsa vale fino a 8 miliardi, banchi in uscita con 400 milioni, i BPM e Creval pronte a cedere le quote, Sondrio e Ubi in dubbio. Poi invece vediamo la foto di centropagina. Canto, danza e musica, la scala sbarca a Riyadh. Una performance di danza moderna all'Accademia Teatro alla Scala all'Auditorium di Nuova Deli. Archiviate le polemiche sull'ingresso dei sauditi alla scala, lente lirico finalizza uno dei progetti previsti, la nascita a Riyadh di un'Accademia di Danza, musica e canto per bambini, bambini e giovani. Da settembre, personale del Teatro Milanese sarà in Arabia Saudita per iniziare la formazione del personale. Vediamo anche la prima pagina del manifesto, poi andiamo a vedere invece i quotidiani locali. Delitto d'autore è la prima di quest'oggi con ovviamente il richiamo alla legge approvata ieri a Bruxelles, approvata la controversa direttiva sul copyright che diventa il diritto proprietario dei colossi della rete, i gruppi politici spaccati sul compromesso raggiunto tra interessi delle imprese digitali e dei grandi editori. Il rischio è quello della censura preventiva, dice il manifesto. E poi il taglio più alto si commenta a Salvini il buono, gli ussoli, ma solamente per due. Il ministro ricambia idea, ora da lo che la cittadinanza per Rami e Adam, Di Maio dice, è merito mio, ma appunto sono solamente i due i ragazzi che appunto potranno godere della cittadinanza. Il sindaco di Milano Sala dice così, non affrontiamo il tema dello Iussoli che è più ampio e complesso di un gesto di liberalità. Per una grande azione quella dei due ragazzi che hanno salvato i loro compagni proprio qualche giorno fa. Andiamo a vedere anche la prima delle gazzettino. Gli sfruttatori di immigrati, società di mestre falsificava, test d'italiano per stranieri, migliaia di attestati, cinque gli arresti, finte cittadinanze scoperto al nord il giro d'affari milionario, indagato anche un prete padovano. Poi si parla anche delle immagini che arrivavano e non arrivano più di battisti in Brasile. L'amico difensore dice non può averci imbrogliato per anni, per me non può essere vero che sia un omicida. Non crede alla sua confessione l'amico schierato per anni dalla sua parte. Poi vediamo anche la prima pagina del nord-est per leggere le notizie delle nostre zone ma anche del Veneto dove c'è l'assunzione dei pensionati dopo che è stata annunciata dal governatore Zaia problemi appunto relativi alla presenza di medici in corsia. Mancano medici, mancano infermieri, 1300 gli specialisti di cui si necessita. I concorsi vengono disertati. La Regione Veneto autorizza le unioni sanitarie a richiamare i vecchi. colpa del numero chiuso delle scuole di specializzazione ma non posso interrompere il servizio pubblico negli ospedali dice Zaia e quindi i pensionati ritornano a lavorare. Qui invece vediamo la notizia che ieri ha scosto tutto il mondo dello sport regionale e anche italiano perché l'Alma Trieste la squadra di pallacanestro è disputa ovviamente il campionato nazionale è stato arrestato il patron stava fuggendo a Dubai con diverse centinaia di migliaia di euro nascoste nello zainetto è il patron dell'Alma Luigi Scavone. Allora ricordiamo che cosa è successo ieri con l'inchiesta sulla maxi evasione finanziaria da parte delle società che si occupano di lavoro interinale nel prossimo servizio. Da questa mattina la pallacanestro Trieste deve fare a meno del suo presidente. L'ex poliziotto è diventato poi capo del gruppo di imprese Alma l'imprenditore Luigi Scavone titolare della squadra e della scuderia motociclistica Pramac è stato fermato dai finanzieri perché coinvolto nella maxi evasione fiscale che ha portato in carcere complessivamente 10 persone al sequestro di beni per 70 milioni di euro. Scavone che della squadra triestina è presidente ma anche main sponsor è stato preso nella sua abitazione nel napoletano mentre si accingeva a partire per Dubai. Nello zainetto aveva occultato oltre 300 mila euro per sfuggire ai controlli. Gli viene contestata l'associazione a delinquere è finalizzata alla frode fiscale. Oltre a Scavone sono 10 le misure cautelari personali nei confronti di altrettanti indagati. Tre di questi sono finiti in carcere mentre agli altri 7 sono stati concessi domiciliari. La disponibilità finanziaria delle 32 società coinvolte nelle indagini è stata posta sotto sequestro preventivo come pure i beni matrimoniali di 27 indagati. Al centro dell'inchiesta proprio il gruppo di aziende che si occupa di lavoro interinale. Le indagini hanno reso possibile l'individuazione di un sofisticato sistema per frodare il fisco attraverso il meccanismo delle indebite compensazioni d'imposta. Francesco Barbatino e Luigi Scavone avrebbero gestito tramite prestanomi compiacenti oltre 30 società con 17 mila dipendenti e un fatturato di circa 400 milioni di euro per il solo anno 2017. Il fulcro di questo gruppo societario sarebbe stato individuato nella holding Altea. La frode fiscale che si realizzava in tre fasi permetteva di non pagare le imposte i contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti attraverso una compensazione con crediti tributari fittizi. Intanto a Trieste gli animi sono preoccupati. La compagine Giuliana reduce della strabiliante vittoria in casa di Cantù è in lotta ancora per la postseason. Ora infatti dovrà fare i conti con la cronaca e anche con il bilancio. Alma infatti è socio di maggioranza e i tifosi si interrogano riuscirà a finire la stagione? Questa è quindi la situazione poi in serata è arrivato anche un comunicato chiarificatore da parte della società che è stranea ai fatti ovviamente non ci sono indagini in relazione alla società sportiva ma è chiaro che l'arresto ha fatto scalpore infatti è sulle prime pagine dei quotidiani locali qui siamo sul piccolo frode fiscale terremoto Alma manette al presidente Scavone l'imprenditore era in partenza per Dubai nello zaino 300 mila euro in contanti e 10 Rolex contestati 70 milioni di evasione la pallacanestro Trieste non c'entra ma all'improvviso il futuro della società in A si fa incerto un appello ai tifosi restateci vicini le parole anche di Di Piazza preoccupato per la sorte dei biancorossi e poi appunto una notizia che sicuramente fa paura a tutti gli amanti della pallacanestro Triestina il ritratto di Scavone un ex poliziotto manager rampante appassionato di sport poi vediamo anche che cosa si dice sulle altre prime pagine perché anche qui si parla di Scavone adesso siamo sul messaggero veneto arrestato il patron di Alma perquisiti gli uffici friulani aveva un ticket per Dubai e soldi nello zaino Alma da lavoro a 900 persone in regione poi vediamo anche le altre prime pagine di quest'oggi riguardo a il gazzettino ad esempio siamo sulle pagine locali di Udine Burka e Caschi vince la linea dura approvata a larga maggioranza la mozione del carroccio che vieta i travisamenti negli uffici pubblici e negli ospedali vota sì anche il PD dopo il via libera al suo emendamento contrario solo l'ex sindaco di Udine Furions è l'unico a votare no che cosa succede? in pratica nelle strutture pubbliche del Friuli Venezia Giulia anche negli ospedali non si può entrare con il volto coperto travisato da oggetti di vario tipo possono essere Burka Niqab ma anche caschi integrali quindi bisogna avere il volto scoperto e appunto mostrare chiaramente i tratti del volto essere riconoscibili l'ha deciso il consiglio regionale che ieri ha preso in considerazione anche la situazione difficile dei benzinai della zona di Gorizia che appunto hanno bisogno di un urgente aiuto tanto che è stato richiesto un tavolo urgente alla regione vediamo allora il servizio sul consiglio regionale di ieri la grave situazione delle imprese di vendita carburante specie quelle vicino al confine con la Slovenia ha spinto il consiglio regionale ad approvare una mozione per l'istituzione urgente di un tavolo di crisi la categoria dei benzinai lamenta da tempo anche sulla nostra emittente l'aumento dei prezzi e l'insufficienza della misura dello sconto regionale ormai strumento obsoleto il consiglio dopo aver visionato i numeri nel 2017 sono stati venduti più di 6 milioni di litri di carburante in meno rispetto all'anno prima dei quali un milione e 300 litri solo nella provincia di Gorizia ha chiesto anche alla giunta regionale di attivare degli strumenti che riducano la concorrenza e di mettere mano all'intera normativa il parlamentino regionale ha anche approvato a larga maggioranza con un unico voto negativo di Open Sinistra FWG la norma che rinforza i sistemi di sicurezza per identificare chi vuole accedere alle sedi regionali compresi gli ospedali e che ne vieta l'ingresso a chi indossa indumenti o oggetti che nascondano il viso il divieto riguarda tutti i mezzi che travisano o mascherano il volto come ad esempio i caschi protettivi impedendo il riconoscimento della persona nei suoi caratteri esteriori percepibili saranno sospesi poi i contributi finanziari i patrocini a chi pubblico o privato neghi o riduca il dramma delle foibe dell'esodo e la sua valenza politica le foibe ha sottolineato le consigliere Camber primo firmatario della proposta sono state usate quale strumento di lotta politica e di pulizia etnica come la storiografia moderna ormai concordamente riconosce l'assessore Gibelli parlando a nome dell'Aggiunta ha affermato io non credo che le verità negate si possano pesare con il numero di cadaveri sono sempre verità negate e non riteniamo giusto finanziare dei portatori di menzogna e ieri in consiglio regionale si è parlato anche di Elisa Valent la ragazza di Venzone ricorderete scomparsa in Spagna da diverso tempo non c'è verità riguardo a chi fu responsabile di quell'incidente e se ne è parlato in consiglio che ha approvato una mozione ma anche Federica ha deciso di scrivere a diplomatici e al governo e alle nostre rappresentanze perché si facciano portavoce del nostro malcontento per questo agire dilatorio chiediamo anche noi non vendetta ma rispetto di vite spezzate e distrutte un rispetto doveroso desiderio di verità e giustizia anche per la 25enne Elisa Valent che si trovava in Erasmus in Spagna invece la regione chiede il conto ADM Electron ieri sciopero di otto ore presidio dei lavoratori davanti alla regione a Trieste durante l'incontro dei sindacati con gli assessori ma anche con l'imprenditore che adesso dice contributi già in restituzione anche noi ne abbiamo parlato il nostro Davide Zanirato ha realizzato un servizio ma vediamo come è andato l'incontro sono molti i lavoratori di buia che sono preoccupati per il trasferimento dei macchinari in Romania è sbarcata a Trieste questa mattina l'avvertenza di M Electron di buia con una trentina di lavoratori sul centinaio a rischio posto di lavoro che hanno dato vita ad un presidio dinnanzi alla sede del Consiglio regionale a seguire l'incontro tra regioni e sindacati che ha visto l'assenza dei rappresentanti dell'azienda i segretari di FIM CISL e FIOM CGL hanno esposto agli assessori Bini, Zilli e Rosolen la situazione con le prospettive nefasse del piano industriale annunciato venerdì scorso dai vertici una previsione di dismissione completa dei reparti produttivi che già nei mesi scorsi era stata denunciata dai lavoratori lavoratori che oggi hanno tra l'altro incrociato le braccia per otto ore alla regione abbiamo chiesto si intervenga per evitare gli esuberi ha spiegato poi al termine dell'incontro Fabiano Venuti della FIM CISL e che si tenti di trovare un altro imprenditore affinché l'azienda continui a operare sul territorio con le attuali maestranze anche perché in questi anni sono stati elargiti i finanziamenti pubblici per centinaia di migliaia di euro in favore dell'acquisto dei macchinari è verosimile che a questo punto ha risposto l'assessore Bini l'azienda debba restituire i soldi o riportare in Italia i macchinari ora i sindacati torneranno ad incontrare la società il 5 aprile per un nuovo confronto ancora sul gazzettino sulle pagine si torna a parlare del NICAB del BURC dei caschi da moto in uffici e ospedali passa la tolleranza zero il PD ha votato sì dopo che è stato accolto un emendamento che riguarda appunto non solo dei vestiti o degli oggetti che fanno parte di simboli religiosi ma bensì tutti quegli oggetti che possono appunto celare i tratti del viso Corte dei Conti i gruppi dicono chiariremo dopo i rilievi sulle spese relative allo scorso anno arrivati a PD Forza Italia Movimento 5 Stelle Patto per l'autonomia e Gruppo Misto i gruppi appunto chiariscono che daranno le necessarie specifiche rispetto alle spese un errore materiale che abbiamo corretto dicono i grillini Moretuzza è un'osservazione formale e non sostanziale e poi si parla ancora di finanziamenti a Sella Nevea 760 mila euro per il polo sciistico nuove risorse ieri la visita di Roberti con il sindaco di Chiusaforte ci sono dei bandi per l'ammordenamento del centro polifunzionale e poi anche il potenziamento dell'area attrezzata all'interno del vicino Bosco ci saranno degli eventi estivi anche una palestra di roccia oltre che un tracciato in quota dedicato agli appassionati di mountain bike un percorso di risalita per sci alpinismo e ciaspole slitta poi la chiusura definitiva dell'operazione aeroporto bisognerà aspettare via libera dell'autorità antitrust europea per la cessione definitiva del 55% delle quote della società aeroporto FWG a due aeroporti di Milano andiamo a vedere la prima del messaggero Veneto con le altre notizie di quest'oggi lavori a Dignano traffico a senso unico alternato ieri la colonna d'auto raggiungeva Spilimbergo almeno altri dieci giorni di lavoro il traffico resterà sempre a senso unico alternato si parla della strada regionale 464 con la variante sud di Dignano poi vediamo anche in taglio più alto i DEM approvano la mozione antiburca e poi i benegazionisti niente più finanziamenti si parla quindi del consiglio regionale cresce il numero degli indagati per la moria di api quote latte le multe potranno essere pagate in 10 anni a 108 anni è morta la donna più anziana della provincia la nonnina di Udine poi la protesta dei serenissimi si tina a Pordenone non paghiamo le tasse all'Italia e poi l'Unione Europea assicura i risparmiatori si farà il fondo pro indennizi per il crack alle banche allora leggiamo le notizie di apertura sempre sul messaggero Alma Maxi Frode fiscale arrestato Luigi Scavone perquisiti anche gli uffici a Codroipo la società di basket non sarebbe a rischio ma a Trieste si rivive l'incubo eccellenza nelle sfide logistiche in Friuli Venezia Giulia 900 i dipendenti i sindacati per adesso non hanno timore su le lesiti che potrebbe avere l'arresto sull'azienda retromarcia di Salvini torniamo ai fatti nazionali cittadinanza Aramidi Maio dice è merito mio e qui vediamo le immagini dei due ragazzi ospiti da Fabio Fazzi in una trasmissione televisiva di qualche giorno fa andiamo a vedere anche le altre notizie della regione con le notizie che riguardano le mosse della giunta finanziamenti proroghe e fondi per le imprese così cambia la Omnibus la giunta regionale ha presentato un corposo elenco di emendamenti alla legge Omnibus in discussione in consiglio e poi appunto si torna a parlare di aeroporto e delle altre news che riguardano il consiglio di ieri la Daniele invece investe 900 mila euro per il recupero esterno del castello i lavori cominceranno in aprile e saranno ultimati entro la fine del 2018 sistemato anche lo scalone di Giovanni Daudi non ha questione di cuore di affari e di dignità dice il presidente del gruppo Daniele che finanzia l'intervento poi si parla anche dei musei presenze in un anno persi 20 mila visitatori si è registrato il 19% in meno di visite rispetto al 2017 sono in calo infatti gli ingressi agli eventi gratuiti bisogna sistemare tutte le sedie far ruotare le collezioni questo è il piano dell'assessore Cigolot l'assessore alla cultura di Udine poi ancora le notizie di cronaca con la morte della nonnina di Udine Rosalia Carniello aveva 108 anni era la donna più anziana della provincia poi vediamo anche l'arresto di Corona che è tornato in carcere anche per l'incursione a Udine e i ladri in ospedale approfittano di un cantiere per rubare in neonatologia c'è stato modo appunto di scassinare una delle macchine che viene utilizzata per i pagamenti elettronici quindi senza lo sportello basta avere il certificato per poter pagare la prestazione effettuata è stato scassinato e quindi i soldi sono spariti ubriaco disturba l'incontro degli alcolisti anonimi Marocchino rimpatriato dopo ripetute condanne sempre per le notizie di cronaca a Udine soltanto 454 richiedenti asilo l'assessore esulta è merito nostro le presenze quasi dimezzate rispetto al picco di settembre l'obiettivo di Palazzo d'Aronco è arrivare a quota 250 come previsto dal Ministero poi si parla ancora dei problemi interni al Comune con annunciate dimissioni licenziamenti insomma ci sono delle questioni aperte ancora sul caso dell'ufficio stampa Belviso chiarisce mi sono dimesso dopo l'avviso di Barillari il sindaco voleva cacciarmi poi invece si torna a parlare del centro storico del cantiere ai piedi della grande gru Mercato Vecchio si divide sul passaggio del bus chi è per una soluzione definitiva in strada soltanto i pedoni chi invece ritiene fondamentale garantire il servizio pubblico ogni giorno 100 euro di incasso dagli stalli blu in via a Mercato Vecchio in taglio più alto invece da Pozzo dice la Camera di Commercio investe per il centro ma con l'arredo non ci saranno mezzi quindi chiaramente si pensa a una soluzione senza traffico infine l'idea delle Malignani niente più fili nei circuiti elettrici i ragazzi vincono un concorso a Milano hanno inventato un inchiostro conduttore adatto a ogni genere di materiale ci fermiamo qui con la rassegna stampa di cronaca andiamo in pubblicità ritorniamo però fra poco con le notizie sportive con i nostri collegamenti live grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori